Ciao a tutti che sono... Con la Z Mi viene male Leggi il titolo Leggi il titolo Sword Throw Ne faremo uno Solo il più giocato Ok? Uno Allora C'è un modo per uccidere Il nonnetto Laggiù E c'è solo un modo E non me lo dirà E come cacchio? Non vale Ah, ho capito Bisogna colpire il tizio con la spada Allevati No Sul serio? Io non lo so Boom Boom Merda Uh 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 No 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 Ho capito Ho capito Merda Aspetta Replay No ma non il mio replay Ci sarà qualcuno insomma Perchè ti blocchi? Ci dovrebbe essere Su Happy Wheels Una X Che tu puoi cliccare Per levare il caricamento dei livelli che non ti piacciono Visto che avevo capito Visto Visto gira ehi no senti girati no 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 ehi senti non gira gira vai ecco e verso la testa io te l'ho detto tu non mi ascolti mai quando si parla di ascoltare ezzurri nessuno l'ascolta ok ok corri 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 ok no no ok senza bambino e muori 7 sì 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 no 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 dammi tutti e sette aspetta posso prendere tutti e sette ok questo come lo prendo ok aspetta proviamo sì bella così vai così uno uno tra lì nina training nina oh is you sneaky nina you sneaky nina ma fa level 1 old man era tempo comunque ho preso l'ascia io l'ho girata e boom super l'erolle ah non ci sono più i livelli di una volta ora sono tutti like grabber fermo tim tim cavallin sotto al piede il tavolino bad suicidio master 1 1 usiamo una cicciona come scudo umano vai spingi la ok forse non sei il massimo degli scudi umani quindi per trovarla in corsa boom 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 ma spazzala in due fregatene c'è abbastanza massa per ricostruirsi holy shit that was kind of difficult e merda questo cos'è eh vabbè quello altro che boh oddio oddio bambo natale lasciami sono stato un bravo bambino lasciami stare cosa sono sembra uno di quei robot che c'erano in dragon ball quelli là che avevano le gambe giganti e poi però non avevano la testa tipo avevano solo una capsula ahhh 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 boom boom motherfucker boom 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 motherfucker boom 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 e vabbè cos'è mission impossible, ah si si è scritto impossible uuh malafacca ok ok, now it's easy, it's easy, you just have to believe it ah, c'è anche una parte 2 nessuno, ho perso le mani, merda vai 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 ok, glass bridge, very very easy easy, still easy not easy, insomma si che easy no, no perchè esploso tutto? ci riproviamo e bum 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 No, questo è WONDERFUL Vendela in corsa This is a WONDERFUL WONDERFUL LIFE You know that, right? Devo solo riuscirci, non sarà così difficile Devo ricordarmi che non esplodono le bombe A meno che non mi vengono a contatto direttamente Ho una scheggia di vetro nel collo Ma sai quanto mi interessa? Ora è in testa Ma sai quanto mi interessa? Holy shit il bambino è morto Andiamo con calma Intanto non esplodono Non esplodono, ricordati non... GLASS FALL OH MERDA PRESS Z OH MERDA NO 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 Vai Ce la puoi fare È giusto un po' di ginnastica artistica Tu spezzi le mani DA SOLO W-W-W-E Che cazzo? Che cazzo? C'è una chi putellata sulla serie Di fallo ti prego Trendila Boom 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 That's a bracket Anyway per questo episodio è tutto Vi ricordo di iscrivervi al canale Cliccando sul bottoncino rosso che trovate qui giù C'è scritto Iscriviti Iscriviti Ehm Ricordo anche di lasciare un mi piace Perché mi piace Mi supportano E mi mostrano come vi piaccia questa serie E se non vi piace beh Vaffanculo C'è C'è turuturututti Si lo so rimbalzo però vedi cosa ci posso fare io